Tu hai avuto un periodo dove eri al top della carriera. Quanto è difficile lavorare nel mondo dello spettacolo e cosa si nasconde dietro le quinte di questo mondo, se vogliamo chiamarlo anche artificiale? Ma io nel periodo d'oro ho avuto la fortuna di avere un agente molto bravo che era Lele Mora e in quel momento era tutto perfetto, tutto funzionava come ho raccontato anche da Luca Casadei al podcast One More Time Radio DJ, tutto funzionava come un'industria, quindi era molto limpido. Poi quando appunto mi sono ritrovata con altri tipi di personaggi, lì mi sono resa conto che veramente era spazzatura, però è stato anche errore mio che dovevo evitare di accostarmi a un certo genere di persone. Quando è che hai capito che stavi perdendo il controllo di te stessa? Mi riferisco quando eri al top della carriera, il troppo denaro, l'uso di droghe che ti ha fatto perdere quell'equilibrio fondamentale per stare in piedi. Cioè, secondo te è stato un mix salute, denaro, droghe? Qual è la cosa che però ti ha fatto perdere la via? Ma io penso che lo stress, ero molto stressata perché comunque andavo sempre da un posto a un altro, quindi ritmi, poi conducevo un programma, quindi era molto stressante. Poi il fatto di insorgere di questa malattia mi ha fatto perdere lucidità perché comunque mi sentivo evidentemente molto stanca, quindi ho iniziato a prendere uso di sostanze invece di curarmi quando sono andata dal medico. E le sostanze mi hanno, unite alla malattia, mi hanno completamente mandato fuori di testa. Quando ti è accaduto il peggio, alcuni personaggi del mondo spettacolo si sono stati a fianco o ti hanno abbandonato? Ma mi ricordo, beh, il più si sono allontanati. Mi ricordo Selvaggio Lucarelli che fece un appello quando stavo con un personaggio al di là delle righe e poi mi aiuta molto questo. Però il più si sono allontanati, adesso si sono riavvicinati. E tu cosa farai con queste persone? Fare la cena? No, cioè, io... Li perdò? Beh, anch'io mi sarei allontanata, dai, se vedevo una cosa del genere. Certo, certo. No, però è bello avere anche persone che ti hanno conosciuto come amica, che mai l'hanno provata ad aiutarti, questo intendevo, capito? Farai provare ad aiutarti, cioè, starti dicendo, guarda che stai sbagliando. C'è qualcuno che comunque ha provato ad aiutarti? Ma, mi ricordo Simona Ventura, mi invitava parecchie volte ai programmi, mi diceva appunto di lasciar perdere con tutte queste cose, ma comunque io non stavo bene e sono finita poi ricoverata, quindi era un momento in cui comunque diciamo che non riuscivo a venirne fuori. Era molto difficile. Grazie. Grazie. Mwhich